Io voglio fare un attimo un saluto ad un amico, Marcus, tu sei abbastanza e c'è più il sangue, anche noi abbiamo la cantina, la dobbiamo prendere da bere, aspetta, torno subito, ragazzi, è finito da bere in cantina, non c'è più nulla in cantina, Marcus, poi vediamo insieme, ciao caro!